Mammola e San Nicodemo, Cascia e Santa Rita, un tutt'uno. Le due comunità si sono unite nella fede, nella speranza, nella carità cristiana. Mammola vive questo mondo fideistico fatto di grandi momenti di fede intensa e la giornata di domenica 24 di questo mese attesta ancora una volta quello che è il sentimento religioso della gente. E' un tutt'uno, Mammola, con San Nicodemo, Cascia e la tanta cosa con Santa Rita, una reliquia, più reliquie, crescono ancora di volte in più, quella che è la fede che ha caratterizzato la notità dei nostri padri. E' un modo di concepire la realtà nuova, un modo di renderci interpreti di questa realtà dove le tante illusioni e le mille disillusioni invitano a riflettere sulla realtà del nostro tempo. Soprattutto sono le due parrocchie che hanno fatto il gemellaggio e noi abbiamo accompagnato, come sempre, ormai da alcuni anni, questo momento di amicizia e quest'anno è stato straordinario perché siamo stati accolti veramente con affetto e con gratitudine di aver portato anche la reliquia di Santa Rita che c'è una devozione veramente meravigliosa. Un momento molto importante tra le due comunità, Cascia e Mammola, l'amicizia che ci lega per il culto di Santa Rita e ci ha permesso di vivere questo momento veramente eccezionale. Un bel momento storico per la comunità di Mammola e la comunità di Cascia con la presenza del suo sindaco Mario De Carolis e di tutta la giunta comunale di Cascia. Veramente una bella esperienza nel segno di un gemellaggio, un gemellaggio civile e poi un gemellaggio anche religioso con le due santità, con i due santi, Santa Rita da Cascia, San Nicodemo del Chellerana che ha avuto modo già di dire ieri nel mio primo intervento due santi che hanno segnato la storia dei territori dell'Italia meridionale già dal 1600 quando Santa Rita da Cascia, che comunque era vissuta nei secoli precedenti e divenuta una santa cattolica popolare con una devozione ormai in tutto il mondo e con San Nicodemo del Chellerana che proprio dal 1600 e cioè dal periodo in cui, dal secolo in cui diventa protettore e patrono di Mammola è diventato un tutt'uno con la nostra comunità. Un'esperienza bella vissuta, un viaggio che ci vedrà anche presenti con la delegazione comunale e con la delegazione della nostra comunità a Cascia per intraprendere anche rapporti di natura, anche imprenditoriale perché i giovani imprenditori di Mammola, lo chef Nunzio Pisano e poi Sergio Piccolo, Silvia Nizzardo hanno già, come dire, intrapreso questi percorsi anche all'insegna di questa promozione dell'imprenditoria e della gastronomia locale. Da tempo questo gemellaggio è stato preparato, gemellaggio dell'amicizia, tra due parrocchie. Sono amici di Mammola che conoscono Cascia e i Casciani che conoscono gli amici di Mammola e allora il desiderio di venire qui, le due parrocchie, vivere un po' un momento insieme ma non poteva Cascia muoversi senza Santa Rita e Mammola questo ha desiderato, che ci fosse la presenza di Rita e la presenza di Rita non è stata soltanto fatta con una statua di legno ma addirittura con la reliquia, una reliquia preziosa che è chiamata la reliquia pellegrina. Il motivo di questo è proprio per rendere presente la spiritualità di Rita nelle parrocchie, rendere presente il suo cuore, la sua vita. Rita è stata straordinariamente una Santa per tutti i tempi e per tutte le persone. Rita è stata ragazza, Rita è stata sposa, è stata madre, è stata vedova di un uomo assassinato che lei ha saputo portare prima di tutto a Dio, ha saputo portare coloro che l'hanno ucciso a portarli addirittura verso la fede e Rita è stata la madre di figli che ha saputo educare nella via del Signore, nella via del perdono, nella via dell'amore. Ecco, allora proprio oggi abbiamo meditato sulla pagina del Vangelo più bella, amate i vostri nemici e Rita è la maestra di questo. L'ho già detto tante altre volte in questi giorni in cui ci siamo preparati a ricevere la reliquia di Santa Rita che è un grande dono di grazia per Mammola, per la sua maturità spirituale oltre che personale. momenti veramente di grazia, momenti vissuti molto belli per Mammola. È la prima volta che esce per le vie, come hai già detto tu, per le vie di Mammola la statua di Santa Rita e abbiamo colto l'occasione con la venuta della reliquia di Santa Rita. Mi sembra che sia andato tutto bene, oserei dire meravigliosamente bene.